Benvenuti nel canale per un nuovo episodio di My Home My Destiny ricco di colpi di scena, dove vedremo Zeynep incontrare Nasli nel negozio di Mehdi, e Mehdi venire picchiato da Buran e la sua banda che lo lasceranno in fin di vita. Zeynep accompagna Kibrit all'officina di Mehdi, dove vengono calorosamente accolte da Nasli, che propone loro di condividere un momento conviviale. Tuttavia, Zeynep, disinteressata a instaurare rapporti con Nasli, gentilmente rifiuta l'offerta. In quell'istante, Mehdi giunge all'officina, cercando in vano di trattenere Zeynep, che parte di corsa per recarsi al lavoro. Kibrit rimane così con suo padre, desiderosa di passare del tempo con lui, ma chiaramente percepisce la sua inquietudine. Mehdi non perde tempo e chiede immediatamente alla figlia informazioni su Baris. Kibrit reagisce con una certa irritazione. Non vuole essere l'informatrice di suo padre e si sente delusa dal fatto che anziché trascorrere del tempo piacevole insieme, lui sembri concentrarsi solo sulle abitudini e gli spostamenti di Zeynep. Tuttavia, Mehdi cerca di spiegare che in realtà cerca solo sostegno e comprensione da parte sua, poiché si sente isolato da tutti e desidera avere un alleato in famiglia. Le richieste di informazioni che Mehdi fa riguardo a Zeynep hanno uno scopo chiaro, vuole essere al corrente della sua vita per poterla proteggere da qualsiasi situazione pericolosa. Inoltre, non avendo familiarità con il nuovo ambiente in cui Zeynep e Kibrit vivono, è preoccupato per la loro sicurezza e desidera garantire la protezione di tutte le donne della famiglia, compresa Kibrit stessa. Mehdi cerca di spiegare che queste informazioni sono fondamentali per garantire la loro sicurezza. Kibrit si commuove fino a un certo punto, tuttavia, fa presente a Mehdi che non fornirà più alcuna informazione e gli rivela che, all'interno della famiglia, solo Sakine, nutre ancora affetto per lui. Le altre donne, a causa del suo comportamento violento verso Zeynep, lo vedono con occhi critici e diffidenti. La situazione è tesa, e Kibrit è determinata a mantenere la sua risoluzione di non cooperare. Contemporaneamente, Emine e Sultan sono in uno stato di euforia per aver ottenuto un'opportunità eccezionale, organizzare un grande ricevimento per un matrimonio. L'entusiasmo è alle stelle mentre comunicano a Sakine questa eccitante notizia. Tuttavia, proprio mentre stanno condividendo la novità, Sakine riceve una chiamata da Mehdi, che la invita a passare in officina per una conversazione informale. Senza dire una parola a nessuno, Sakine esce di casa per raggiungere immediatamente Mehdi al lavoro. Nel frattempo, Varys raduna i tre stagisti per annunciare chi avrà il lavoro. Alla fine, prende una decisione che sorprende tutti. Decide di premiare ciascuno di loro, poiché è estremamente soddisfatto del loro impegno e delle loro competenze. Questo significa che Zeynep ora è ufficialmente una dipendente a tutti gli effetti dello studio legale. Un importante passo avanti nella sua carriera professionale. La sua determinazione ha dato i suoi frutti, aprendo nuove opportunità nella sua vita. All'officina, Mehdi con una scusa allontana Kibrit, così da poter ricevere la visita di Sakine senza che la figlia lo sappia. Una volta arrivata, Sakine infatti risponde a quante più domande possibili fatte da Mehdi per scoprire i dettagli della vita di Zeynep. Sakine, che nutre ancora grandi speranze sul riavvicinamento tra Mehdi e la figlia, è ben aperta al dialogo. Secondo lei, lui e Zeynep sono ancora molto innamorati, situazione palese al matrimonio. Alla domanda sul perché allora il loro matrimonio sia finito, Sakine risponde che la figlia ha accettato di sposarsi soprattutto per soddisfare le sue aspettative e che poi ha divorziato per rispettare le aspettative della madre Nermin. Ed è proprio a Nermin che attribuisce la colpa dell'atteggiamento indipendente e fiero della figlia. Anche se deve ammettere il fatto di averla rinchiusa in casa e averle urlato addosso, non è un atteggiamento che Zeynep avrebbe potuto tollerare da parte di nessuno. Mehdi ammette di aver sbagliato, ma anche di star facendo di tutto per rimediare ai suoi errori. Motivo per cui chiede l'aiuto e la complicità di Sakine per poterla riconquistare. Sakine accetta di aiutarlo, facendogli presente però che si assulta anche Emine hanno grande influenza su Zeynep e che loro non vedono positivamente la loro relazione. Mehdi, sconfortato dal fatto che così tante persone non lo supportino, decide di chiedere direttamente di Varys, sospettando che la resistenza di Zeynep sia dovuta alla presenza di un altro uomo. Sakine lo rassicura subito dicendogli che lui e Zeynep hanno solo un rapporto lavorativo e che, inoltre, Varys si è rivelato essere un uomo molto rispettoso ed educato. Vedendo che anche Sakine apprezza Varys, Mehdi cerca in qualche modo di screditarlo. Fortunatamente, Sakine riesce subito ad aggiustare le sue affermazioni, dicendo che sì, Varys è un uomo educato, ma che lo ha visto solo una volta e quindi non può dare un giudizio preciso sulla sua vera natura. Nel frattempo, Nuh e Gemile fanno una breve sosta a Casa Caraca per prendere le ultime valigie e anche Mujgana. Hanno organizzato una visita a Zelia per informarla su tutte le ultime novità, il divorzio di Mehdi, il matrimonio di Gemile e tutte le vicende del quartiere. Il colloquio tra Mehdi e Sakine dà come risultato una rinnovata fiducia da parte dell'uomo nella possibilità di ricostruire il rapporto con Zeynep. Infatti, poco dopo, Mehdi decide di scrivere un messaggio alla sua ex moglie, chiedendo un incontro al più presto per poter discutere degli eventi che sono accaduti al matrimonio. Tuttavia, Zeynep, ferma nelle sue decisioni, risponde rifiutando categoricamente il confronto e suggerisce di mantenere le distanze almeno per un po' di tempo. Dopo aver letto la risposta di Zeynep, in officina fa il suo ingresso Buran, seguito da alcuni dei suoi complici. Il gruppo si assicura di breccare Mehdi all'interno dell'officina, cercando di evitare che possano essere visti dai passanti. Buran e gli altri iniziano a picchiare brutalmente Mehdi, che rimane impassibile, non reagisce a nessun colpo e si lascia percuotere fino a cadere esanime a terra. La situazione si sta rapidamente aggravando. Nel frattempo, a casa di Zeynep, Sultan e Demine sono sempre più entusiaste per il nuovo lavoro che hanno ottenuto. Tuttavia, quando spiegano che saranno pagate solo alla fine del servizio e che non riceveranno alcun acconto iniziale, sia Sakine che Nermin iniziano a sospettare sulla sincerità dei loro clienti. Di solito, per lavori di questo tipo, è comune ottenere un acconto iniziale per coprire le spese iniziali di produzione. Sultan e Demine sono momentaneamente perplesse, ma desiderando preservare la loro prima esperienza lavorativa autonoma, decidono di non farsi influenzare dai dubbi di Sakine e Nermin. Nel frattempo, Mehdi rimane esanime nell'officina. Buran prende la decisione di lasciare Mehdi dentro l'officina e di gettare le chiavi del negozio, andando via con i suoi complici. Raccomanda loro di nascondersi, poiché teme che le telecamere di sicurezza possano aver registrato tutto quanto accaduto. Kibrit, invece di tornare all'officina di Mehdi come inizialmente previsto, si reca nell'ufficio di Zeynep. Qui viene accolta da un gioioso Baris, che le propone di trascorrere del tempo imparando a suonare il suo violino. Kibrit accetta di buon grado e si concentra su un nuovo strumento, mentre gli occhi orgogliosi di Zeynep la osservano. E così, giungiamo alla fine di questo episodio pieno di emozioni e colpi di scena di My Home My Destiny. Speriamo che abbiate apprezzato le vicende dei nostri amati personaggi, tanto quanto noi. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like e iscrivetevi al nostro canale. Grazie per essere stati con noi oggi e vi aspettiamo al prossimo episodio. Alla prossima!